mangia 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 ho fatto la cazzata raga ho fatto la cazzata defcon 1 e ciao a tutti ragazzi siamo in questo nuovo video su lucky wars e siamo sempre su ghost war e andiamo subito a morire perché sapete che io muoio sempre si perfetto sta già iniziando la partita la mappa è giungla e oddio l'abbiamo fatta sta mappa ah si qual è ok me la ricordo me la ricordo si si qua c'è anche la cassetta ci dovrebbe essere una cassetta forse può essere ah si la c'è la cassetta noi non abbiamo la cassetta perché siamo poveri ma va bene allora vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare today andiamo prima la chest ok abbiamo un po' di armatura ok perfetto prendiamo questo qui e wow lo spawner di cos'era gino mi sembra ho detto io che ho sfortuna andiamo qui se c'è qualcos'altro noop ok adesso farei una cosa come sempre shop così le cander pearl 2 tiriamo la mangiamo perché così si recupera la vita e rompiamo il suo blog ci trova qualcosa di bellissimo ovvero l'ascia di thor ok ma se tipo riusciamo a fulminare qualcuno quello la vediamo un po' oddio mamma non l'ho beccato che palle allora ok questa qui è buona è ottima dobbiamo avere soltanto un pochettino di fortuna nel trovare qualcosa di più figo vabbè cioè visto ragazzi non ne ho sforzato ancora di nuovo allora perfetto finalmente un'armatura come si deve la spada pura ora si che siamo abbastanza cazzuti comunque ragazzi voglio dire una cosa che diciamo sono contento che vi è piaciuto quello speciale che ho fatto uscire qualche giorno fa sono veramente contento che vi sia piaciuto anche per il vostro feedback ho letto che vi ha fatto ridere moltissimo prendiamo subito quest'arco mannaggia ultima freccia eh vabbè proprio ora si doveva fermare quella che vi ha fatto ridere molto quindi sono veramente contento perché era quello di me intendo alla fine che cosa ho preso gravità zero oddio ok questo qui non ci serve questo qui ne ha anzi questo qui si perché voglio scompare dopo un po' ok abbiamo questo qua ci darà un incudine no veramente ma qualcosa di più bello qualcosa no niente non posso prendere nulla ma sei rimasti pure in treno non ho fatto neanche pvp che cos'era qualcosa ah l'arco esplosivo perfetto uh ciao bambinello vieni qua qui si sta chiedendo ma che cazzo sta succedendo si si tira l'acqua tira l'acqua vieni qua ma se non riesco a beccarlo allora si sta tappando adesso sapete cosa facciamo sta cosa qui raga guardate hop shh non se ne ha accorto facciamo ha mangiato la mela d'oro lo stonto sta scioppando quello che ha scioppato mi sa raga allora ci fa il culo ok e ne facciamo così divertiamoci un pochettino tieni tutta tua ok adesso vediamo un pochettino ah ecco chi ci abbiamo qui ci abbiamo Gino mi sono bagato nelle foglie e ne facciamo così goodbye scoppiano adesso è morto si mi sa che è usciso good quindi l'uovo di Gino ci è servito a vincere contro questo qua però me ne manca uno che chissà dove è qua abbiamo vinto signori abbiamo vinto mi sono preso un infarto ma abbiamo vinto perfetto direi adesso di buttarci subito e farne un altro comunque è figa da sta lobby che cazzo è stato nel frattempo voglio dire che mi dispiace che in questi giorni non sono usciti video ma ho avuto un paio di problemi col computer però non c'è avuto tempo e quindi non ci sono completamente riuscito che botta di culo finalmente la spagna in diamante pertanto mi dispiace ma cercherò adesso di riprendermi subito il più velocemente possibile si mi sa che dobbiamo sempre shoppare le nostre due enderpearl porca puttana ma si ne facciamo così guardate raga questo non deve succedere non se ne è accorto non se ne è accorto ragazzi siamo negazzi non se ne è accorto mi sa noi giriamo di qua ragazzi sta facendo il percorsino molto bellino non se ne è accorto mettiamoci qua sotto piano piano ragazzi qua molto stealth e aspettiamo oddio ora rammazza quello non so se vabbè cosa facciamo qui però c'è l'armatura della madonna oddio oddio no mi hai visto eh sì senti zio non per qualcosa ma ti voglio bene non ho mangiato la me la p corri ma perchè 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 dove carlo sempre io i pali di becco no ho detto si è brutto comunque ragazzi questo video finisce qui non so perchè sto camminando all'indietro ma sembra figo e vi invito quindi a lasciare un po' cinza se il video vi è piaciuto purtroppo abbiamo fatto sempre dei nostri fail come sempre ma comunque abbiamo vinto un lucky wars quindi ci sta vi ricordo che cercherò adesso di portare di nuovo i due video al giorno vi ho spiegato già durante il video il perchè non sono riuscito a portarli questa settimana detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti